Il nuovo capo del Consiglio Economico della Casa Bianca è stato scelto dal Presidente Barack Obama nella persona di Alan Kruger, professore all'Università di Princeton. Kruger è specialista nel mercato del lavoro, succede a Austin Goldslib. Sono molto lieto di nominare Alan Kruger a capo del Consiglio Economico. Alan è uno dei più importanti economisti che per oltre vent'anni ha studiato la politica economica su tutti i fronti. Per più di due decenni ha studiato e ha sviluppato la politica economica, tanto in oltre il governo. Una nomina che arriva una settimana prima della presentazione da parte del Presidente Obama del piano di sostegno alla formazione. Una presentazione che avverrà dopo la festa del Labor Day, primo lunedì di settembre, che per tradizione segna la fine delle vacanze estive.